Il Canicati Calcio rafforza il plotone degli Juniores. La società bianco-rossa del presidente Sandro Giglia ha annunciato l'arrivo in rosa di tre giovani atleti, tutti provenienti dall'Agragas. Si tratta di Danilo Greco, classe 1998, centrocampista, Claudio Condello, classe 2000, centrocampista, Diego Onolfo, classe 2000, centrocampista. Alto il compiacimento della società per avere riportato a casa i tre ragazzi tutti i canicattinesi. Durante il mercato di riparazione che si è chiuso lo scorso 15 dicembre, il canicattino non ha fatto registrare grandi movimenti. In uscita tre giocatori, Alessandro Pirrotta che si è accassato a Mussomeni, Salvatore Accetta che è andato a Marsala e Gerlando Contino che era stato annunciato come il primo colpo del mercato dicembrino per la società bianco-rossa ed aveva disputato solo una partita, quella terminata con il risultato di 0-0 a cammarata col Camerat che ha accettato l'invito del Profavara. Poi era stato dismesso il portiere Pompeo Sarkuto che a canicattia ha fatto solo da Panchinaro. In entrata soltanto tre colpi, Cristian Desi, Giuseppe Priolo e Cristian Scariolo rispettivamente, centrocampista, attaccante e una punta centrale. Scariolo, classe 1990, nelle ultime stagioni ha militato nel Paternò, nel Giarre e Sant'Agata. Ha iniziato il campionato in corso a Biancavilla, nel Girone B di eccellenza. Alto 1,87, forte nel gioco aereo e nei calci piazzati, è il tassello che la società canicattinese cercava per completare e rendere ancora più competitiva la rosa-bianco-rossa. Le trattative erano state intavolate da Alessandro Avarello e Faustino Giacchetto, entrambi direttori sportivi che si sono raccordati col presidente Sandro Giglia e con il mister Sebi Catania. Trascorsi i due giorni di riposo concessi dal tecnico Catania per il fine anno, tutti i giocatori sono rientrati in sede e la squadra è scesa in campo per svolgere esercizi fisici ed esercitazioni tecnico-tattiche. Dopo le due settimane di doppia seduta dedicate al richiamo di preparazione, la preparazione è proseguita regolarmente secondo gli stand di campionato. Domani alle 15, per la prima di ritorno, il Canicattia ospiterà il Caccamo, formazione di alta classifica. Terna arbitrale promiscua dirige il signor Liborio Fundarotto della sezione Aia di Trapani, assistito da Filippo Luca Scannella di Caltanissetta e Pierluigi Fazzi di Enna.